dalla madre. Adesso i temi della sanità. Continua a far discutere la nuova rete ospedaliera approvata dalla struttura commissariale senza la firma della regione. Malumori soprattutto nel Cosentino dove i sindaci si preparano alla mobilitazione. Seguiamo Antonio Liotta. Si sono autoconvocati per domani mattina nella sala consigliare di Praia Mare. I sindaci del Tireno Cosentino si mobilitano contro il decreto scuro urbani che riorganizza la rete ospedaliera in Calabria. Un provvedimento che secondo gli amministratori locali penalizza oltremodo un territorio che tocca anche aree di confine e che avrebbe bisogno invece di presidi e maggiori servizi sanitari. Grave sostengono che l'ospedale di Praia resti fuori dal piano di riordino nonostante la sentenza favorevole del Consiglio di Stato. Sentenza che invece ha avuto un peso per tre bisacce dove sono stati assegnati 20 posti letto di medicina generale. Malumori diffusi da Tortora fino a Belvedere Marittimo. Qui è il rischio chiusura e il pronto soccorso della clinica Tricarico, una struttura privata diventata punto di riferimento per l'alto di Reno Cosentino. Secondo la proprietà il decreto rappresenta un'ulteriore penalizzazione per la struttura, tanto da rendere antieconomico tenere in piedi il pronto soccorso. Amministratori in fibrillazione anche per la riorganizzazione dell'ospedale Spocco Cetraro Paola che prevede la collocazione dell'area chirurgica a Paola e di quella medica tranne l'oncologia a Cetraro. Ma non è solo Spocco Cetraro Paola che prevede la collocazione dell'area chirurgica a Cetraro che